Eccomi a prima mattina a Torre Annunziata. Il mio primo incontro di oggi è stato con il parroco monsignore della Basilica di Maria Santissima della Neve. A Torre Annunziata mi ha colpito l'umanità di questo facerdote, ma soprattutto una frase che la terrò mia. Nessuno nasce camorrista, ed è la verità. Qui siamo nel cuore, guardate. Questo è il famoso Palazzo Piengo, Forte Apache, del clan Gionta, il clan della Camorra, di Torre Annunziata, Giancarlo Siani, Forte Apache. Oggi questo Forte, Forte Apache, come dire, è stato liberato, ma però poi lo Stato che si è impegnato a realizzare la cittadella della legalità non ha ancora realizzato la cittadella della legalità. Però qui a Torre Annunziata